Bravo sei, in silenzio radio. Per giocare insieme e per approfondire tutte le notizie come sempre che usciranno nel corso della mattinata e poi canale telegram per non perdere nessuna notizia sul mondo di Call of Duty 24 ore su 24, tutti i link nel primo commento in rilievo. Partiamo subito, l'utente Shandy445 dopo l'uscita della patch 1.15 ha trovato alcune stringhe nei file di gioco che andrebbero a svelare alcune future mappe multiplayer tra cui Erat, Skaris, Drainage e soprattutto una che interessa molto a me, Scrapard, mappa che come sapete della saga di MW e che abbiamo visto anche recentemente arrivare grazie alla Season 3 all'interno di COD Mobile. Vi terrò aggiornati su questa notizia. È stata trovata invece in rete, e ringrazio Emir, questa prima presunta immagine di quella che dovrebbe essere la minimappa effettiva della Battle Royale Warzone. Infatti, come potete notare, presenta anche i confini già inseriti ma la minimappa è incompleta nella parte superiore, si attendono al momento conferme ufficiali. Rimaniamo sempre sul discorso della Battle Royale perché nella nuova mappa Gunfight 2v2 di nome Bazar aggiunta con la patch 1.15 è stato trovato un nuovo indizio che porta a pensare nuovamente che qualcosa accadrà il 3 di marzo. Già vi ho riportato nei giorni passati tutti i vari indizi del 3 di marzo, il Tag Clan 3-3, la scritta all'interno del poster di Piccadilly uscita 3 marzo, nuovamente il 3-3 nella scritta Top Secret. Questo ragazzi si somma tutti appunto questi indizi che portano a pensare che qualcosa deve accadere per forza il 3 marzo. Ringrazio la Call of Duty Warzone Community per l'immagine, curiosità e easter egg veramente molto ma molto interessante. Vi riporto altri due importanti leaks svelati in queste ore. Sembrerebbe che ci sarà un pacchetto esclusivo PlayStation dedicato alla Battle Royale Warzone denominato il Call of Duty Warzone PlayStation Plus Combat Pack. Ma al momento non si sa ancora cosa conterrà. Inoltre la modalità Battle Royale dovrebbe essere come riportata appunto anche da League of Modern Warzone free to play. Già ne aveva parlato TGR nelle scorse settimane. A conferma di tutto questo nei file di gioco sembrerebbe che siano state trovate alcune stringhe che si riferiscono ad acquisti in app della modalità Battle Royale per chi non ha acquistato il gioco, ad esempio oggetto sbloccato a livello 1 comprando Modern Warfare, tutti gli operatori disponibili con l'acquisto di Modern Warfare, acquista Modern Warfare, acquista Modern Warfare per avere l'accesso ai pacchetti completi. Ci sono giocatori nel tuo party che non possiedono Modern Warfare. Per acquistare devi uscire dalla lobby. Quindi tutte curiosità molto importanti che fanno pensare appunto che questa modalità sarà free to play e poi dall'interno si potrà appunto invogliare l'utente a comprare il gioco completo. Ieri sera invece è stato rilasciato un nuovo aggiornamento interno, parliamo intorno alle ore 19 di ieri sera, in cui sono state sistemate alcune cose. Risolto un bug che permetteva di utilizzare le killstreak nelle playlist della Call of Duty League, risolti dei bug relativi agli inviti dei reggimenti, rimossa la schermata di reset grado che è comparsa da alcuni giocatori dopo l'aggiornamento di ieri, risolto un bug che non faceva funzionare bene il perk recupero rapido della vita. Inoltre ieri sera, a sorpresa, l'Infini World ha rimosso la playlist Mega Infezione perché a quanto pare dava troppi punti esperienza. La modalità sarà introdotta quando l'Infini World avrà sistemato alcuni aspetti. Questo è tutto quello che vi ho voluto dire sul mondo di Call of Duty e Modern Warfare delle notizie della giornata di ieri e di questa notte. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, vi aspetto alle 13.30 il live sulla piattaforma Viola per spaccarci di risate e per parlare di tutte le notizie che usceranno nel corso della mattinata. Canali Telegram per tutte le notizie in tempo reale e noi ci vediamo domani ore 7 con il nuovo video informativo. Grazie a tutti.